Finalmente, dopo due anni, la scala del Turchia è stata riaperta a seguito dei lavori di messa in sicurezza organizzati dalla regione Sicilia. Però mancano assolutamente i controlli e questo è uno dei risultati dei mancati controlli. La scala del Turchia è stata riaperta a seguito della regione Sicilia. La scala del Turchia è stata riaperta a seguito della regione Sicilia. La scala del Turchia è stata riaperta a seguito della regione Sicilia. La scala del Turchia è stata riaperta a seguito della regione Sicilia.